Bisogna ringraziarli perché anziché essere noi il bastone della loro vecchiaia, sono loro a sostenerci. I nonni vanno ringraziati, lo ha detto anche il Ministro della Salute Lorenzin, neomamma e dunque grata per l'aiuto che le danno. La festa dei nonni fu istituita dieci anni fa. Quest'anno la Fondazione Senior Italia ha lanciato alla campagna Mille Piazze per i Nonni d'Italia, che coinvolgerà in particolare 230 centri anziani. Dal 2 al 4 ottobre, spiegano gli organizzatori, sarà possibile visitare e vivere queste strutture per scoprire come si stiano evolvendo sempre più in moderni centri, dove i nostri senior possono essere stimolati all'utilizzo di strumenti informatici, all'uso delle nuove tecnologie e alla pratica del wellness. L'evento offrirà anche l'occasione per una raccolta fondi. I centri anziani sono del tutto autonomi e autogestiti, acquistando nei centri coinvolti una cartolina celebrativa della festa dei nonni, e con un'offerta libera del valore minimo di 2 euro, si potrà contribuire al loro sostentamento. Stessa cosa potrà essere fatta con le dolazioni online. Nata con lo scopo di garantire aiuto socio-economico agli italiani ultra 55 anni, Senior Italia si avvale per questa iniziativa della collaborazione della Lega Nazionale Professionisti B, che dedica ai nonni sette giornate di campionato, 77 partite in tutto, facendo indossare a giocatori e arbitri maglie con il logo della festa e allestendo maxi schermi per messaggi video da proiettare durante le gare. Quando si cresce si rischia di dimenticare l'importanza che i nonni ricoprono o hanno ricoperto nelle nostre vite, ha dichiarato il presidente della Lega Serie B, Andrea Abodi. Oltre che dal Ministero della Salute, l'evento ha ricevuto il patrocinio anche del Pontificio Consiglio per la Famiglia, a voler ribadire ciò che Papa Francesco ripete dall'inizio del suo pontificato, condannando quella cultura dello scarto che relega i più fragili, come gli anziani, al margine della società. Lino Banfi e il calciatore della Roma Alessandro Florenzi sono invece i testimonial della campagna, il primo per essere diventato il nonno libero d'Italia nella fiction tv un medico in famiglia, il secondo per aver abbracciato la nonna Aurora seduta in tribuna all'Olimpico dopo aver segnato un gol importante.